Cascine, stazione, fortezza da basso, zona di via Palazzuolo e tutto quello che sta nel cosiddetto triangolo delle Bermude della sicurezza. In base all'ordinanza emessa ieri dalla prefetta di Firenze è fatto di vieto di stazionamento in queste zone per coloro che si rendano responsabili di condotte aggressive determinando un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. Un altro elemento della bonifica annunciata dal ministro Piantedosi una decina di giorni fa a Firenze. Il 2 ottobre iniziarono i controlli rafforzati dei carabinieri proprio nella zona di via Palazzuolo, controlli che si sarebbero poi spostati in altre zone di Firenze. Nel frattempo è stato confermato l'arrivo di 100 nuovi vigili urbani entro novembre a cui se ne aggiungeranno altri 100 all'inizio dell'anno. Saranno impiegati soprattutto per il pattugliamento stradale. I sindacati di polizia accolgono l'ordinanza della prefettura sottolineando però che il problema è soprattutto la carenza di organico. Soddisfatto il presidente dell'associazione Borgogni Santi. La sicurezza si veste di rosa, finalmente il piglio giusto preso dalla sindaca Funaro e finalmente anche dalla nostra prefetta stanno dando i suoi risultati. Certo non sono cose eclatanti, entriamo massicciamente insieme a quelli che io considero gli altri pilastri fondamentali del vivere bene una nostra strada che insieme alla sicurezza sono la pulizia, il decoro urbano e l'arredo urbano. Una strada ben illuminata, una strada pulita, una strada dove non ci sono buche chiaramente attrae molto meno delinquenza.